La Corte d'Appello presso il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Monsignor Nunzio Scarano. I giudici nel rigettare il ricorso avanzato da Scarano contro il provvedimento emesso a gennaio del 2017 dal Tribunale di Salerno hanno ritenuto comprovata la pericolosità sociale del prelato avuto riguardo ai vari procedimenti penali a suo carico e al tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati confermando quindi la confisca e il vincolo cautelare nei confronti del patrimonio di 5,5 milioni di euro in precedenza sequestrato. Questo è quanto è scritto in un comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.